Abbiamo ritenuto opportuno come amministrazione comunale di portare avanti un progetto che possa dare le giuste indicazioni ai più giovani nell'utilizzo corretto dei social. Proprio per questa motivazione stiamo cercando di contattare degli esperti che ci possano aiutare nel poter mettere in atto una vera e propria spiegazione all'interno delle scuole che possa mettere nelle condizioni i giovani ad utilizzare le app come una risorsa e non come un pericolo. Come sindacato di Polizia S.I.U.L.P. e Associazione Nazionale delle Polizie di Stato abbiamo riattivato nonostante il periodo pandemico le nostre iniziative. Ormai da anni giriamo le scuole e visto anche l'ultimo triste episodio abbiamo capito che è arrivato il momento di riattivarci. Il progetto nasce da una cosa che ho capito girando le scuole nel nostro compensorio, gli stessi referenti bullismo e serverbullismo delle varie scuole non si conoscono tra di loro. E quindi il primo obiettivo è fare rete, quindi il motto è in rete nella rete, proprio la rete di tutti i referenti. E capito anche che l'importanza di far conoscere e spiegare i rischi e le stesse applicazioni dei rischi ai genitori è una cosa fondamentale. Anche il S.I.U.L.P. per ciò che fa lui come organizzazione sindacale in questo periodo, proprio in occasione dell'ultimo tragico evento che è accaduto a Palermo che ha visto purtroppo protagonista una bambina di 10 anni, ha ulteriormente alzato l'asticella di attività e di verifica per poter consentire non solo che la nostra attività praticamente peculiare e professionale venga posta a conoscenza anche di coloro che facendo rete riescono a identificare tutti quei problemi che alla luce della visione di queste attività che possono apparire anche di carattere ludico poi si trasformano in questioni anche di natura mortale, ma soprattutto devono dare l'astura a che anche le associazioni pubbliche quelle che sono più interessate come la scuola, come le istituzioni, come la prefettura, come la questura, come tutte le attività parallele che ci aiutano nella società, si riescono a collegare tra di loro in un abbraccio solidale che può consentire ovviamente di impedire che determinate attività sia di verifica che di controllo di queste cosiddette app particolari possono in qualche modo influenzare le coscienze di persone che per vista la loro età sono assolutamente moralmente aggredibili